Rai se non puoi mangiare i titoli i titoli i titoli ma gioia mi ispira subito fiducia a questo sguardo sincero che assolutamente cioè mi sembra una persona che è pronta a tutto che vuol conoscere tutti che non si non ha pregiudizi non si ferma davanti a niente ok scusate mi gioia credo che tu sia stata bannata da twitch io si vediamo al tuo canale dobbiamo finire come possibile aspettare ma seriamente ma motivo cosa ha droppato qualche parolina no no non lo so non hai fatto del bucio di culo in live no 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 mi spaventissimo esattamente bella mare è la prima volta che succede una cosa gioia perché dobbiamo far uscire gioia non ci è mai capitata una situazione del detatto magari eh no ma diciamo l'accompagniamo beh ovviamente non non è mai successo penso che qualcuno fosse live su twitch mentre era bannato quindi free gioia in chat non lo so è stata bannata ma non è stata bannata ovviamente per cose che ha fatto qua è ovvio va bene è finito lo speed date in maniera strana no purtroppo secondo il regolamento di twitch non possiamo esatto non possiamo promuovere persone bannate per cui scusaci gioia se ti abbiamo cacciato così ma rischio rischio anch'io non ti sentiamo non ti sentiamo vedo che parli ma non ti sentiamo scrivi scrivi grazie phil pazzesco pazzesco non era non è successo in vita mia una cosa del genere per cui eh molto strano eh ringrazio io a nome di gioia ringrazio gioia non può comparire e il primo speed date è finito così in tronco per questioni eh di ban eh ringrazio gioia gentilissima un hashtag free gioia e speriamo che torni presto sarà un ban di qualche di qualche giorno nello avrà contattato i suoi poteri forti e qualcuno che hai eliminato questa sera ci è rimasto male non so ha vinto non so che ha vinto dario bravo bravo darione